Voi ormai siete dei classici, però forse ogni tanto vi dovreste un po' attualizzare. Allora, hai ragione. L'altro giorno chiudevo a casa e non so se sia un complimento, ma la mia vicina che è uscita mi ha guardato velocemente e poi mi ha detto sembri lo zorro degli anni 30. Non so se volesse farmi un complimento. Beh, io mi ricordo quello degli anni 30 no, però quello degli sceneggiati quando ero piccola... Devo mettere la mascherina da scambista e poi... È molto stiloso. No, me l'ha messa a posto la ragazza, la truccatrice che è stata lì, perché sono arrivato e che Ale mi ha detto vai a farti dare una sistemata perché avevo un baffo di ragione. Erano così, erano, erano... Erano, erano sistemate. Allora, la ringrazio pubblicamente, eccola là, è stata bravissima. Era più una virgola che un baffo, capito? Per comunque cercare di rendervi un pochino più contemporanei, volevo mostrarvi degli oggetti e... No, in realtà capire se siete a conoscenza di quello che fanno i giovani oggi come oggi. Sempre per ritornare al club. Sempre per ritornare. Allora, se io vi mostro questo oggetto... Oh mamma mia! Voi sapete di cosa si tratta? Forse ho capito. Ah, naturalmente voi siete vecchietti. Ah sì, vabbè, siamo vecchietti. No, per scontato. Mi fai gli occhiali se non vedete il cavolo. E i vostri vecchietti vedono questo oggetto. Sì, sì, ho già capito cos'è. È quello che faceva le porcherie e 50 sfumature di grigio, l'ho capito. Glielo dava di quelle legnate sui denti, gli dava... È vero? Tu sei dal tonico, è l'unico... È l'unico film che riuscivo a vedere, era 50 sfumature di grigio. No, che cosa è questa cosa sua? No, davvero, non sapete cos'è. Io non ho capito. I vecchietti, secondo me... I vecchietti non capirebbero. Non capirebbero. Oh, una stampella forse. Ah sì, forse sì. La roba per grattarsi dal chieno. Oppure anche per capire se una faccia sta bene in un quadro. Guarda, fai così. Un quadretto così starebbe bene. Vedi, lui starebbe bene nel quadro. Che cos'è sta? Per fare le fototessere, capito? Eh sì. Vedi, sì, stai. Tu non stai in questa fototessere. Sei troppo grosso. Sono a fuoco. Vabbè, è un bastone da selve. È un bastone da selve. Alla fine di Zilli c'erano quelli che si mettevano così. Pare che l'abbiano vietato nei musei, perché può creare... Però voglio dire, proprio scappare dall'essere socievole con le altre persone, nel senso che... Cioè, non solo adesso fai allunghi il braccio, ma se usi questa roba qui non vuoi neanche che un tuo amico te la faccia. Cioè, capito? Non vuoi amici, capito? Ma poi la cosa assurda è che se fai così, com'è che fai a schiacciare? È questo che non riesco a capire. Deve avere delle braccia lunghissime. Eh, beh, come fai, è vero. Siamo molto anziani. No, infatti vengono tutte così, non le foto. È vero, come fai? Beh, metti l'autoscatolo con un timer. Ci sarà l'autoscatolo con un timer. Probabilmente si fa l'autoscatolo con un timer. Cosa direbbero i vecchietti se io mostrassi loro questi guantini da touchscreen? Eh, eh. Cosa sono questi? Sono i guanti perché se tu d'inverno hai freddo le mani, non riesci con i guanti di lana a schiacciare il telefono, capito? Hai capito? A casa mia la riesco. Alzo, metto dentro il dito e giro, ce la faccio benissimo anche con i guantini. Hai casato così i guanti? Eh certo, non voglio lasciare le impronte digitali sul telefono. Ma se sai Cologno Monzese, hai capito? Non si sa mai, non si sa mai. Allora c'è stato. Perché gli ha messo qui queste cose qui? Per darti una schiaffa così il touch e lo senti, capito? Ma ecco, sì, ecco. Ma veramente però, scusami, Daria, tu dirai, ma che vita di inferno devi fare per pensare che qui guanti non puoi neanche mandare un messaggio e dici, aspetto, aspetto, dopo li tolgo e poi fai le foto con questo, c'hai capito? Cioè è una vita di inferno. Beh, confesso che quelli li uso ogni tanto. Tu li usi? Oppure quelli senza lì. Eh beh, allora quello si ha più senso. Ma vabbè uno va a sciare, lo capisci. Ma ce l'hai lo smartphone? Ti spunti, guarda. Pulisci anche lo schermo, guarda, guarda. Ma come è venuto pulito. Ma non solo è lo smartphone, ma anche con la carica. Vedi come sei moderno. Ti faccio vedere. Siccome durano un quarto d'ora, io ho risolto il problema, ho preso una batteria grossa così, quindi ho buttato l'estetica. Infatti i giapponesi adesso in Corea si saranno suicidando a vedere il mio telefono. Ma dove l'hai trovato quello? Su internet. Ah, vedi. Io sono per le prolunghe molto lunghe. Perché lui è non solo tecnologico, ma è... Guarda che telefono, guarda. Sono tornato al Motorola del 91. Molto giovane però, eh? Sì, sì. No, è pesante. No, poi il baffetto... Ti sta un po' sfuggendo di mano. Mi sta sfuggendo di mano. Ti sta sfuggendo di mano, rimbambino. Sì, lui è più... Lui è molto tecnologico. Pensa che io sono quello tecnologico dei due. Pensa come siamo. Ma infatti questo qui sapete cos'è? Sì, è la tendina per il sole. Questa qua è la tendina per il sole. È una stuaglia da spiaggia un po' piccola, mi sembra, no? Per un bambino piccolo o per una netta o per... Questo qui è il tappetino da sushi. Ah, sushi, sì. Per arrotolare... Fai il rotolino di riso per fare il sushi. No, no. Ah, il sushi, sì. Si usa una stuaglia, non lo sapevo. Sì, la rotoli lì dentro. Sai che io sono per il maiale, quindi non è... Lui è per il pesce. Potreste arrotolare un maiale, evidente. Sai cos'è il sushi? No, che cos'è il sushi? È un pesce crudo tagliato a pezzi, no? Ah, che buono che deve essere. È buono. Come quello che mangiano i delfini. Ecco, bravo, quella roba lì. La si dà al delfinario. Oppure come fai dei coni, insomma. Dei coni, come puoi ripesturare le orecchie, uguali. No, lascia stare, che schifo, no? I sushi, no, non me lo ha scelto di mangiare. Lasciamo, guarda, suscitiamoci, come dico io. Ecco, bravo. Lasciamo stare. Grazie.